Una buona serata e bentrovati a questa nuova edizione del Tg Abruzzo. Apriamo il nostro notiziario partendo dalla pagina di Cronaca con un drammatico incidente che si è verificato nel primo pomeriggio a Corropoli dove ha perso la vita un imprenditore balneare 58enne, Ettore Muscella. Ascoltiamo il servizio. Mondo del turismo e della politica in lutto per la scomparsa di Ettore Muscella, noto imprenditore balneare a Tortoreto di 58 anni ed ex amministratore comunale di Torano Nuovo. Conosciutissimo nel Terramano, il 58enne ha perso la vita nel pomeriggio di sabato in seguito ad un drammatico incidente avvenuto nel territorio di Corropoli. Potrebbe essere stato un malore a determinare lo schianto che non ha coinvolto altri mezzi, ma sono ancora al vaglio dei carabinieri di Alba Adriatica le cause del sinistro avvenuto nel primo pomeriggio del 4 maggio. Secondo una prima ricostruzione, il 58enne ha perso il controllo della sua Citroen C4 mentre percorreva Viale Gran Sasso tra Nereto e Corropoli, finendo con la macchina contro una pianta sul ciglio della strada. Purtroppo i soccorsi sono stati inutili. Il personale del 118, intervenuto sul posto prontamente con un'ambulanza o un'automedica, ha tentato di rianimarlo, allertando anche l'elicottero da Pescara pronto a trasferire l'automobilista al vicino ospedale di Santomero. Ma nonostante ogni sforzo, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. L'urto contro l'albero è stato violentissimo e non gli ha lasciato scampo. Ettore Muscella, componente di una nota famiglia di imprenditori nel settore alberghiero, era il titolare del rinomato chalet Solarium a Tortoreto Lido. In passato aveva anche rivestito il ruolo di presidente dell'Associazione Balneatore a Tortoreto e poi l'esperienza politica a Torano Nuovo, dove aveva ricoperto l'incarico di assessore e di vice sindaco dell'allora primo cittadino Dino Pepe. La notizia della scomparsa di Ettore Muscella si è presto diffusa, lasciando nello sconcerto quanti lo conoscevano e stimavano tanti i messaggi di cordoglio anche sui social network. La salma è stata restituita alla famiglia dal PM Stefano Giovagnoni. Ettore Muscella lascia la moglie Serena e due figli. A breve verranno fissati i funerali. Proseguono senza sosta le ricerche per trovare Milena Santirocco scomparsa da domenica scorsa. In campo cinofili e subacquei le ricerche si concentrano ora verso sud ed è stato aperto un fascicolo per sequestro di persone. In prima linea anche l'Associazione Penelope Abruzzo che si occupa di persone scomparse. Sentiamo. Una settimana senza Milena Santirocco. La maestra di ballo e di fitness di 54 anni, originaria di Lanciano, scomparsa nel nulla da domenica scorsa. Dopo aver pranzato con i figli, la donna è uscita in auto per fare una passeggiata a Torino di Sangro e non ha fatto più rientro a casa. Le ricerche coordinate dalla prefettura di Chieti dalla giornata di sabato si sono spostate a Casalbordino Lido. Una decisione assunta dopo il tavolo tecnico che si è tenuto venerdì in cui si è deciso di cercare più a sud, non più a vasto come era stato inizialmente indicato. Da sud sono giunte un paio di segnalazioni anche all'Associazione di persone scomparse Penelope. La stessa associazione ha fatto presente di non tener conto del giubbetto rosso indossato da Milena, visto che era vestita in modo sportivo. L'auto della Santi Rocco, una Renault Clio, è stata ritrovata aperta e con una gomma a terra nel parcheggio di Borgata Marina di Torino di Sangro, mentre il telefono cellulare, che risultava attivo fino alle 18.30 dello scorso 28 aprile, non si trova. Mistero anche sulla cancellazione del suo profilo Facebook poco prima della scomparsa, mentre le ultime foto inviate su WhatsApp a uno dei figli mostrano fiori e i resti delle mura ciclopiche al lago Dragoni. In campo, diverse squadre cinofile grazie ai cani molecolari, la protezione civile e i vigili del fuoco sono giunti fino ad un villaggio turistico a Casalbordino Marina, senza trovare però al momento alcuna traccia, neppure di indumenti. È stato scandagliato l'intero tratto della ciclopedonale Via Verde Costa dei Trabocchi, i canneti e le rocce sottostanti. Acquisiti anche i video delle telecamere presenti lungo il tragitto. Le indagini sono coordinate dal PM di Vasto Silvia Dinunzio. È proseguita anche la ricerca subacquea col ritorno dei sommozzatori del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Pescara, che stavolta ha passato in rassegna il tratto di mare sottostante il parcheggio di Borgata Marina, spostandosi di nuovo anche nella zona del Trabocco Le Morge. La motovedetta della Guardia Costiera ha di nuovo pattugliato il prospicente tratto di mare fino al litorale morisano, verso Termoli. Altre squadre, vigili del fuoco, continuano a mappare il vasto territorio della riserva regionale Lecceta di Torino di Sangro, dove c'è stata l'ultima localizzazione del telefono cellulare della donna scomparsa. Sono giorni drammatici per i familiari. I figli, Emanuele Dennis e la sorella Sonia, i due giovani, hanno distribuito i volantini lungo la costa, con l'SOS lanciato dall'Associazione Penelope, che si occupa di persone scomparse. I figli sono convinti che non si tratti di un allontanamento volontario della madre, né di una caduta in mare, quanto piuttosto hanno il timore che qualcuno possa averle fatto del male. In questo momento mi trovo a Casalbordino, dove è stata spostata da questa mattina l'unità di controllo locale dei vigili del fuoco. Fino a ieri si trovavano nel posto, nel parcheggio, dove era stata ritrovata la macchina di Milena, ma questa mattina è stato deciso di spostare il punto operativo. Per quanto riguarda ulteriori informazioni, oggi abbiamo saputo che è stato aperto un fascicolo in procura per sequestro di persona. Sicuramente quello che possiamo dire è che Milena non si è allontanata volontariamente, perché era molto legata alla famiglia, era una persona che al momento stava vivendo uno stato di tranquillità assoluta, non aveva problemi economici e di nessuna tipologia. Quindi l'appello che rivolgiamo come associazione è quello di contattarci, qualora ci fossero delle informazioni importanti da darci. Cosa altra importante è che Milena non portava una giacca rossa, un giubbino rosso così come è stato divulgato all'inizio. Si sa che aveva un abbigliamento sportivo, ma non sappiamo di preciso cosa indossasse. Tragedia nella notte allo stabilimento Stellantis Europe di Atessa. Un uomo di Lanciano è morto al reparto montaggio dell'ex Sevel. Erano passate le 23.30 di ieri sera, al terzo turno notturno, quando Massimo Di Florio, questo è il nome della vittima, a 56 anni, si è improvvisamente accasciato su un carrello colpito da un infarto. Inutili tentativi di rianimarlo, sia dei sanitari aziendali che del 118. La procura di Lanciano ha restituito la salma ai familiari, per le esequie sul posto anche i carabinieri di Atessa. A seguito dell'accaduto, il restante turno di lavoro è stato annullato in comune accordo tra l'azienda e la RSA di Fim, Will e Fismic nei reparti di montaggi e logistica. Ancora sotto shock, il quartiere San Donato a Pescara per l'improvvisa morte di un neonato di poche settimane avvenuta in casa. Sentiamo. Un dramma senza fine, quello che si è consumato a Pescara nel quartiere San Donato, dove ieri è morto un neonato di poche settimane. A lanciare l'allarme sono stati i genitori, vedendo che il piccolo non rispondeva alle loro sollecitazioni. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118. Gli operatori hanno provato a rianimare il piccino, ma ogni tentativo è risultato vano. Per il neonato non c'è stato nulla da fare. Intervenuta anche la polizia con la squadra volante e la squadra mobile. Dagli accertamenti eseguiti dagli investigatori, non sono emersi elementi sospetti o che possano far pensare a situazioni particolari. A chiarire ogni dubbio sulle cause del decesso del piccolo, sarà l'autopsia che verrà eseguita nei prossimi giorni su incarico del magistrato di turno. Dalle prime informazioni, non è escluso che si tratti di un caso di cosiddetta morte in culla, ma al momento queste sono solo ipotesi. Per accertare le cause del decesso, bisognerà attendere l'esito degli accertamenti autoptici che serviranno a stabilire le cause della morte del neonato. Una notizia terribile che ha destato sconcerto nella comunità pescarese, una tragedia per la quale non ci sono parole. Turisti italiani bloccati nello Yemen. Tra loro c'è anche un abruzzese che però rassicura. È vero, siamo bloccati ma stiamo tutti bene. Matteo Porfiri. Siamo bloccati ma non in pericolo, siamo in una condizione comunque di benessere. È il racconto di una cinquantenne abruzzese originaria della Valle Perigna, bloccata assieme ad altri italiani nell'isola di Socotra, nello Yemen. La donna ha rassicurato amici e familiari con uno stato pubblicato su WhatsApp. I voli sono stati bloccati esclusivamente per ragioni politiche, ma questo è un posto tranquillo, racconta la cinquantenne. Abbiamo sollecitato la Farnesina per tornare a casa, dove tutti abbiamo un lavoro, e le famiglie da portare avanti. Ma questa comunità è accogliente, non ci sta facendo mancare nulla. Il volo, stando alle ultime comunicazioni, dovrebbe essere disponibile domenica 5 maggio. Il gruppo è composto da 15 persone. La comitiva era partita da Abu Dhabi con l'unico volo settimanale che porta all'isola, ma a causa della guerra civile non sa più come fare rientro. Il Ministero degli Esteri, sul sito Viaggiare Sicuri, ricorda però che è assolutamente sconsigliato recarsi lì nell'attuale situazione e che la locale ambasciata italiana ha sospeso le proprie attività. L'unità di crisi della Farnesina è in contatto con il gruppo di turisti rimasto bloccato e anche con i loro congiunti in Italia. L'ambasciata d'Italia ad Abu Dhabi è inoltre in contatto con la compagnia aerea per assicurarsi della ripresa dei collegamenti aerei. A partire dal 13 febbraio 2015, a seguito dell'aggravarsi delle condizioni di sicurezza, l'ambasciata d'Italia a Sanà ha sospeso le proprie attività e non è più possibile pertanto assicurare assistenza consolare a coloro che, nonostante il fermo sconsiglio, si recchino in territorio iemenita. Torniamo ora ad occuparci dei due cuccioli orsetti orfani di Amarena. Dura critica del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise verso chi commette quelle che vengono definite azioni sconsiderate clandestine come dare cibo arbitrariamente ai cuccioli. Sentiamo. Gli orsetti orfani di Amarena non sono denutriti, quindi bisogna evitare di dare loro cibo arbitrariamente. Azioni che il Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise definisce sconsiderate e che poco hanno a che fare con il rispetto della legge. L'ente lo afferma in una nota dopo aver appreso nei giorni scorsi di un cittadino che a dicembre 2023 avrebbe fornito cibo, a suo dire naturale, ai due cuccioli dell'orsa uccisa la scorsa estate a Fucilate a San Benedetto dei Marsi, in provincia dell'Aquila. Il Parco annuncia di aver chiesto alle autorità competenti di fare chiarezza sull'accaduto. Affermare che gli orsi scendono in paese perché hanno fame, scrive il Parco, è una risposta troppo semplicistica che non tiene conto di quanto in natura tutto sia più complesso di quello che sembra. Siamo sicuri, si legge ancora, che gli orsi avrebbero superato i mesi invernali anche senza cibo supplementare, anche perché non è dato ancora sapere le quantità di questo cibo utilizzato, né quanto in realtà gli orsi abbiano usato queste e altre risorse. A meno che i cuccioli non siano stati pedinati, andando ben oltre il semplice gesto dimostrativo e contribuendo in modo significativo alla fase di abituazione all'uomo, con tutte le conseguenze che questo comporterà. E qui si apre un altro scenario, se possibile ancora più inquietante del precedente. Nel condannare il gesto, dunque, il Parco sottolinea che tutti coloro, privati o associazioni, che vogliono condividere la mission della conservazione, sono i benvenuti, ma le regole del gioco devono essere le stesse, perché solo così ci sarà sempre la garanzia della tutela del bene comune. Dunque, tutelare gli orsetti vuol dire lasciarli vivere nel proprio habitat senza interferire. Ed ora passiamo al calcio. Eteramo, neopromosso in Serie D, ha festeggiato il traguardo raggiunto in un ristorante della città. Intanto continua a tenere banco la questione dello stadio Bonolis. Ce ne parla Giusy Cingoli. Ieri sera il presidente Filippo Di Antonio, in un noto ristorante di Teramo, insieme ai propri soci e sponsor con lo staff tecnico e la squadra, ha voluto festeggiare privatamente la promozione in Serie D. Il Teramo The Record, che ha vinto il campionato di eccellenza per tutta la stagione, ha mantenuto una condizione fisico-atletica davvero invidiabile. E' questo merito del suo preparatore, Francesco Petrarca, che ascoltiamo. I meriti sono di tutti, ce li prendiamo, però io credo che principalmente siano dei ragazzi, che in campo il 20 luglio, il giorno in cui siamo partiti, e tutto il lavoro che è stato fatto, veramente mi ha fatto un approzo a loro, perché hanno fatto un lavoro incredibile. A breve la società Biancorossa inizierà a programmare il prossimo campionato, in attesa di conoscere il destino del Gaetano Bonolis, e che sviluppi avrà la trattativa in essere tra l'amministrazione comunale e la Soleia, che fa capo a Franco Iachini, gestore dell'impianto. Si apprende che l'ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione, avrebbe nominato un consulente tecnico per la valutazione della congruità della proposta di PEF presentata dalla Soleia. A prescindere da questa nomina, il Comune continua a lavorare sulla strada di cercare un accordo con l'attuale gestore, che sembrerebbe ancora possibile, alla luce della differenza non incolmabile di proposta e offerta tra le parti. Dunque l'arbitrato è in essere, e a fronte di una memoria depositata dalla Soleia con la richiesta della nomina di un CTU, ora si attende il deposito di controrepliche da parte dell'amministrazione comunale. Non è da escludere che in qualsiasi momento, però, le parti possano trovare un accordo sulla transazione e rinunciare ad andare avanti con l'arbitrato. Intanto la società biancorossa ha messo in vendita il costo di 5 euro, un tagliando che mette in palio tre buoni viaggio, del valore di 800 euro, di 600 e di 400 euro per i primi tre fortunati. Una lotteria di autofinanziamento del città di Teramo, per dire grazie a chi ci ha regalato una stagione calcistica da record. L'estrazione verrà il prossimo 2 giugno e la vendita dei biglietti sarà affidata ai collaboratori della società. E per questa edizione è tutto. Grazie per la cortesia attenzione e una buona serata con i programmi della Rete.